Il po' con l'inizio, il po' con il giuseppe, il nome del po' italiano, letto in articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, dichiara il po' con il giuseppe colpevole del reato di Stato, è riconosciuta l'attenuante di cui è la fissura 62.6 del codice penale e le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di misi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa e non menzione. Letto l'articolo 530 del codice di procedura penale, assolve e lega Filippo e coli Maurizio del reato di Stato per non aver permesso il fatto. Motivazione in giorni 60. I conti sono andati perché praticamente dopo 5 anni, in una vicenda nella quale ho sempre creduto in innicenza dei miei clienti, e anche per loro è stato particolarmente pesante e obiettivo. Per anni non abbiamo fatto niente, ci siamo difesi dentro il processo, siamo riusciti a portare le nostre ragioni e penso che questa sentenza abbia fatto così luce su quella che un po' è la verità dei fatti. Coli Allegra in questa vicenda triste e dolorosa non avevano alcuna responsabilità. Quest'oggi, insomma, il giudice ha un po' fotografato questa sentenza, siamo particolarmente contenti. Illustro a lui che oggi è un altro passaggio importante perché il tribunale penale ha deciso che vi fosse un responsabile dell'evento anche sul piano penale e questo per noi era importante. Ho illustrato al padre che il tribunale ha ritenuto di condannare solo l'autista e ha una pena di 8 mesi e che per noi è una risposta importante anche per quello che stiamo continuando a fare in appello perché noi la vicenda continuiamo a coltivarla in secondo grado perché vogliamo un'ulteriore integrazione dell'esercimento e quindi questo sarà un ulteriore elemento sul cui lavorare e rafforzare la nostra tesi di questo. In primo grado una sentenza che ci riconosce poco più di 800.000 euro ma il pagamento per adesso è stato parziale di circa 280, non ricordo di più preciso, e si attende l'esito adesso a secondo grado per avere l'intero. è ovvio che in secondo grado è tutto da discutere. È messo anche oggi l'udienza penale, il pubblico ministero ha detto nessuno ha chiesto scusa alla famiglia di Age Maghe, sono cose che poi lasciano sempre il loro segno sul piano umano ma dal punto di vista processuale conta poco. Certamente loro lettere né dalla società né dall'autista che non hanno mai ricevuto, ma questo ormai appartiene a una storia passata. No, è bene, è duro però, sì, è sempre dura. La casa è sempre dura. Sivestas è sempre ricordata che non ti... non... Non si non lo so, perché la paura è troppo difficile, che nessuno può stare. La paura è troppo difficile. Siamo chiamati ogni giorno. Io non posso dire la lavoro di la cosa che ha detto la giudice. Lei non lo sai più di me. Allora io non rispetto la legge di italiano. Allora non posso decidere cosa lei deve fare. Però ha scritto che le leggi sono guerre per tutti. E lei non lo sai che tutto questo cuore è penare. Noi mi accettano tutti. Noi non sono andato via di qua perché noi non ti piace stare in Italia o non ti piace stare in Reggio. Noi abbiamo andato perché quando io vedo la studente di Silvestre, io sempre manco la Silvestre. Allora vuoi andare via così? Dependendo, sì. Noi abbiamo menticato un po', però... No. 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 No.